Musica Terzo giorno di prove, abbiamo visto che i cavalli hanno avuto un po' di problemi Eh, dovuto, diciamo così, alla prima volta che vengono in piazza perché quest'anno fino ad ora avevano provato, diciamo così, i cosiddetti cavalli titolari oggi hanno portato i cavalli, diciamo, sempre così di riserva e quindi si vede che si sono trovati un attimo spiazzati dalla lizza in qualche modo dal contorno di gente che stasera ce l'ha in maniera particolare Sicuramente anche la pioggia che è preciso durante le prove non ha aiutato? No, quello senz'altro, quello che disturba sempre, è ovvio Le previsioni di questa giostra di giugno? Eh, questa è sempre una bella domanda diciamo così, noi come Santo Spirito si parte con le carte di regola siamo sicuri perché si è fatto 6 mesi di allenamento intensi e proprio qui